Mentre proseguono gli interrogatori di garanzia per le persone che sono state coinvolte nell'operazione Algeri, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato ieri sera Ernesto Fortezza, si era usano i 53 anni, ritenuto elemento di spicco del sodalizio criminoso di Via Algeri, sgominato con il blitz operato nella notte tra lunedì e martedì. In quell'occasione era sfuggito alla cattura. Durante le operazioni già i due figli di Fortezza, pienamente coinvolti nei traffici di superfacenti, erano stati assicurati alla giustizia ma quando i carabinieri avevano fatto irruzione nella loro abitazione Ernesto Fortezza era assente e i suoi familiari non avevano saputo fornire indicazioni su dove si trovasse. Fortezza peraltro avrebbe dovuto trovarsi in abitazione in quell'orario, poiché per progressi e altri reati, sempre in materia di superfacenti, era stato sottoposto all'obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, prescrizione che aveva già violato più volte, inducendo i carabinieri a proporne un aggravamento. La nuova violazione aveva costituito per lui una fortunosa coincidenza che gli aveva permesso di sottrarsi alla cattura e di rendersi irreperibile. I carabinieri tuttavia non hanno interrotto le ricerche e da martedì in poi hanno continuato a controllare i luoghi dove si riteneva che l'uomo avesse potuto trovare riparo. Ieri sera i militari hanno ristretto il cerchio intorno a Fortezza che probabilmente per andare a trovare la moglie, ultimo rimasto in libertà del suo intero nucleo familiare, si era avvicinato nuovamente nella zona di Via Algeri in sella a un motorino. La scaltrezza del catturando era ben nota, tanto che per evitare di essere scoperto non era assalito nel suo appartamento, preferendo invece trovare rifugio in una delle tante baracchie abusive presenti nei campi della parte alta della città. I carabinieri hanno notato la presenza del motorino e hanno così intuito le manovre elusive dell'uomo e dopo una serrata battuta della zona, malgrado il buio e l'impervietà del terreno, lo hanno localizzato e catturato. Una volta arrestato, l'uomo è stato tradotto in carcere a disposizione dei magistrati e la procura distrittuale antimafia di Catania.